Se fritto nell'olio d'oliva il cibo è più sano, a rivelarlo è una ricerca fatta dall'American Chemical Society. La ricerca ha infatti dimostrato che l'olio ottenuto dalle olive riesce a mantenere stabili, in friggitrice e in padella, le sue proprietà alle alte temperature, risultando quindi più indicato nelle fritture rispetto agli altri oli comunemente usati. I ricercatori hanno fritto in quattro diversi oli, oliva, mais, soia e girasole, pezzi di patata cruda, e ripetuto l'esperimento riutilizzando gli oli per 10 volte. Il risultato è che quello d'oliva è stato l'olio più stabile per friggere. L'olio di semi di girasole si è degradato più velocemente in padella. Le proprietà fisiche, chimiche e nutrizionali degli oli si possono degradare quando questi vengono portati ad alte temperature e in alcuni casi i cambiamenti possono portare alla formazione di nuovi composti potenzialmente tossici. Le conclusioni della ricerca che ha monitorato le variazioni di ognuna delle quattro tipologie di oli usati ad ogni passaggio è che l'olio d'oliva mantiene più degli altri la propria stabilità e che i cibi nesso fritti risultano sempre più sani.